Il derby il Latina lo vince con un gol per tempo. Al Francioni i Nerazzurri battono il Cassino 2-0 grazie all'autogol di Tommassi prima e alla rete di Galasso poi. I puntini vedono la zona playoff agganciando il Trastevere a 33 punti in classifica, i ragazzi di Urbano invece restano a 29. Succede poco nella prima parte di gara, di occasioni non ve ne sono molte, i portieri non devono certo fare gli straordinari ed allora bisogna attendere il trentesimo esatto per la prima emozione quando arriva il gol dei Nerazzurri. O meglio è un autogol perché la sfera dentro la propria porta la insacca, uno sfortunato Tommassi. I Nerazzurri sono così in vantaggio per l'1-0. Sopra di una rete il Latina ha un'altra buona occasione ma del giudice c'è. Sul finire della prima frazione si fa vedere anche il Cassino, prima con una conclusione sul fondo di Tribelli e poi con una punizione insidiosa di Carcione, ma si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio. Si riparte ed il Latina cerca subito il raddoppio ma il portiere Cassinate del giudice è sempre attento. Nel Cassino è il solito Abreu a rendersi pericoloso ma il suo colpo di testa schiacciato non c'entra il bersaglio. Le cose poi per gli ospiti si complicano ancora di più quando Mazzei va sotto la doccia per un doppio giallo. Il Latina allora ne può approfittare ma del giudice è pronto a fare davvero gli straordinari. Si scaldano anche gli animi, soprattutto sulle panchine, con l'arbitro costretto ad intervenire allontanando un uomo per parte. A 4 dalla fine il Cassino viene salvato dal palo ma del giudice deve capitolare poco dopo. La rete la firma Galasso, è il gol del 2-0, è il suggello sul match. Il derby allora è a nero-azzurro, la corsa della Latina verso i play-off continua.